Arrivano buone notizie per tutti i fan Pokémon. Netflix infatti ha da poco annunciato che pubblicherà il nuovo film dedicato a Mewtwo. Mewtwo Strikes Back Evolution è infatti il più recente film del franchise dei mostriciattoli Tascabili e il suo debutto risale in Giappone allo scorso luglio 2019. E a quanto pare ormai tutto è pronto per il suo arrivo in grande stile anche in occidente. La data di uscita è fissata al 27 febbraio 2020 e non si tratta di un giorno casuale. Nel lontano 27 febbraio 1996 debuttavano infatti Pokémon Rosso e Pokémon Verde, i primi titoli della serie pubblicati in Giappone. Ma cos'è nella sostanza Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution? Si tratta di un remake del primissimo film della serie. La base è quindi Pokémon il film Mewtwo contro Mew, la pellicola uscita nelle sale nel lontano 1998. Ve lo ricordate? Quello che vi permetteva di ottenere, andando al cinema, una speciale carta di Mew. Non si tratta però di un remake 1 a 1, visto che in questo nuovo film non solo ci sarà una nuova grafica in 3D e computer grafica, ma anche una storia leggermente differente. Con un po' di fortuna nelle prossime settimane la divisione italiana di Netflix confermerà anche l'adattamento del film nella nostra lingua. Ovviamente noi vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti, quindi per non perdervi nessuna novità ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Ciao e al prossimo video.